Una occasione preziosa per due motivi, innanzitutto promuovere e approfondire la conoscenza della produzione letteraria del Verga, soprattutto fra gli studenti perché non mi pare che nei programmi didattici, nei programmi scolastici si sia dato particolare spazio a Verga e al verismo in generale. Il secondo obiettivo è quello di valorizzare i luoghi, i contesti che hanno ispirato la produzione verghiana, non è un caso che stiamo lavorando per la riqualificazione del borgo della Consiglia Vizzini, dove il Verga immaginò nella sua cavalleria rusticana l'epilogo tragico, ma anche i luoghi dei Malavoglia, Adacitrezza, i luoghi della città di Catania, alla quale rimase intanto legato fino alla morte. Ecco, io credo che tutto questo, mettendo assieme le istituzioni pubbliche, quindi la regione e i comuni interessati, l'università che proprio oggi ha organizzato un convegno di grande espressore culturale e rendendo partecipe anche chi non è addetto ai lavori, potrà consentirci di cogliere a pieno l'opportunità straordinaria di questo centenario verghiano e rendere omaggio al nostro conterraneo, perché credo che lo meriti davvero.